Sì, è proprio vero. Spesso non riusciamo a vedere più la bellezza di ciò che abbiamo intorno. I sconforti, i dispiaceri e il destino che a volte ci porta all'imprevisto, l'inaspettato ci possono strappare il gusto della vita. Ed è proprio quando pensi che tutto sia giunto al termine, inizi ad avvertire un'energia dentro te che ti suggerisce un cambiamento radicale. Come tanti settori, anche i ristoratori hanno subito un danno economico irreparabile e dovranno pazientare ancora fino a quando questo maledetto virus non comincia a rallentare la sua corsa. Nella vita bisogna abituarsi agli imprevisti e dalle novità. Il caso, il destino e la fortuna giocano un ruolo fondamentale in questi casi. L'arrivo in Italia del coronavirus ha portato un enorme cambiamento nella vita di tutti noi. La situazione va affrontata con coraggio e nel rispetto di noi stessi e degli altri. Ma trovare il coraggio di ricominciare dipende sempre e solo da noi. Restare in casa è uno dei punti chiave per limitare il diffondersi di questo nemico invisibile. I dati della settimana appena conclusa, elaborati dall'Ufficio Statistica del Comune di Agrigento, mostrano segnali di miglioramento della pandemia in Sicilia. Da poco è arrivata la notizia di una probabile riapertura dei ristoranti, segnata per il 17 maggio. Una volta l'essi che ci sono due regole nella vita. La prima è non mollare mai. La seconda è non dimenticare mai la regola numero uno. Questo è il tempo di rialzarsi, di imboccarsi le mani, dell'importanza di ritrovare un abbraccio, di guardarsi negli occhi, di ritornare a vivere. Questo è il tempo del calore umano, del calore di un buon piatto. Pochi sanno che la parmigiana di pesce spada è un piatto tipico siciliano, fatto con il pesce spada del Mediterraneo, con il pomodoro dei nostri campi e la colatura di provola affumicata, il meraviglioso pistacchio di raffadali e un po' di scaglie di mandorle. Parmigiana di pesce spada. Le persone credono a ciò che desiderano. Solo in Sicilia.